Infuso altre stime sull'inflazione, insomma l'inflazione non sta ripartendo, questo è un male, nell'area euro. La stima per il 2015-2017 vede ridursi ulteriormente la stima dell'inflazione all'1% nel 2016 da 1,3% nel 2017 all'1,5% contro l'1,6% quest'anno dallo 0,2% previsto allo 0,1% per cui siamo in, non dico in deflazione ma in assenza di inflazione. Ancora per quello che riguarda sempre la Banca Centro Europea la stima sulla crescita economica invece sale, per il 2015 dovrebbe fare l'area euro all'1,5%, per il 2016 invece dall'1,8% viene limata all'1,7%. Grazie a tutti.